Amici del Bardo, anche oggi sono qui pronto a rispondere ad una delle domande che mi avete lasciato su Instagram nelle stories che uso per raccoglierle. Prima vi ricordo rapidamente che ci sono diversi modi per sostenere la mia attività social, alcuni gratuiti, basta lasciare un pollice in su, un mi piace a ciò che vi propongo, altri che mi mettono in tasca qualche soldino. Trovate tutto scritto nella descrizione dei miei video. Ad esempio una di queste modalità è acquistare su Amazon dalla mia vetrina personale. Non vi cambia niente, dovete partire da lì nel mettere gli oggetti nel carrello e poi fare l'acquisto, ma una piccola commissione, di solito il 2-3% di quello che comprate, invece che andare ad Amazon, arriva a me. Il link della mia vetrina, anche questo ovviamente, è nella descrizione del video. Ma ora andiamo alla domanda e mi chiedete, seguendo il filone dello ieri, della nostalgia, te lo ricordi, Macho Man, Randy Savage? E beh, certo che me lo ricordo. Me lo ricordo, personaggio maschilista, simbolo di un modo di pensare di quell'epoca. La donna in cucina, nel suo piccolo mondo antico, chiaro, era un atteggiamento già detestabile e contestato, che poi ha visto nel corso delle decadi un arretramento di fronte, non parlo di quello di Macho Man, parlo ovviamente dell'atteggiamento sociale, che ha visto un arretramento grazie alle grandi conquiste che hanno tagliato le donne, anche in ambito sportivo e anche nell'ambito del pro wrestling. Ora, Macho Man, per chi non lo conoscesse, era noto per i suoi straordinari costumi di scena e per una parlantina magnetica. Macho Man riusciva a creare emozione e a proiettarti all'interno della storia che stava raccontando, perché la viveva. La sua voce, il suo look, ti davano quel senso di realtà che il wrestling, allora, nell'epoca pre-social, riusciva ancora a trasmettere. Guardate, io ho fatto un solo acquisto a marchio Macho Man ed è uno degli acquisti più costosi che abbia fatto in assoluto. Ve l'ho già fatto vedere in altre salse, ma so che ci sono tifosi nuovi e questo dovrebbe darvi l'idea di quanta stima avessi e abbia di questo atleta che spesso viene un po' dimenticato quando si discute degli anni 80, degli anni 90 perché gli si preferiscono i più, diciamo, rumorosi Hulk Hogan e Ultimate Warrior. Guardate, guardate quanto è grossa sta statuina. Uff! Eh? Con un tappezzo del tappetino del ring di Vrestal Mania 5. Guardate anche il costume che vi dicevo prima, la Macho Madness e i dettagli dietro. Eh? Ci sono anche le scritte sul costume e tutto quanto. Eh, pesantissima, credetemi. Serie Icon, se non ricordo male, non ne hanno fatte tantissime. Esatto, Icon Series. Questa è un'edizione limitata a 500 esemplari, beh, costava veramente tanto. Quindi se il bardo si è comprato una cosa del genere su Macho Madness e Randy Savage, beh, vuol dire che come combattente lo stimava davvero. E in quegli anni, gli anni delle prime, Vrestal Mania è stato sicuramente un grande protagonista. Secondo me, esaltato anche in più di una circostanza dalle telecronache di Dan Peterson. Abbiamo parlato spesso di Dan, che, insomma, di Vrestling, molto onestamente sapeva pochino, però aveva quella voce, quel carisma, quell'X Factor, quello zio d'America, no? Che arrivava a portarti la novità e le ultime notizie. Per noi bambini era fantastico. Cioè, Babbo Natale arrivava ogni volta che c'era Dan Peterson in TV a commentare il Vrestling, ok? Oggi purtroppo la sua telecronaca sarebbe molto anacronistica per i tempi, era speciale, fantastica, perfettamente bilanciata sullo ieri, su quella allora. Allora, Macho Man, Vrestal Mania 3, grande match con Ricky Dedragon Steambot, Macho Man accompagnato da Miss Elizabeth come manager, che diventerà anche poi la sua compagna nella vita sino ad un certo punto. e c'è anche George di Animal Steel a Bordoring, questa specie di cavernicolo che non si è sviluppato mentalmente, buono di cuore, che si è innamorato di Miss Elizabeth e ovviamente questo fa arrabbiare l'uomo maschilista, Macho Man. Miss Elizabeth invece è dolce, gentile, premurosa, non vuole spezzare il cuore di George di Animal Steel e cerca di fargli capire, a modo suo, che lo accetta come amico ma non come altro. Che storie fantastiche. Uno degli incontri tecnici più belli delle prime edizioni di Vrestal Mania, ma secondo me l'apice, Macho Man, lo raggiunge a Vrestal Mania 7. So che qualcuno dirà, però ha fatto anche il match contro Al Kogan, eccetera, eccetera, è stato campione, è vero, è verissimo. Anche quello, un bellissimo incontro, c'è pure delle statuette commemorative e tutto quanto. Però, però Vrestal Mania 7 è proprio il fiore all'occhiello di Macho Man. Perché? Perché si gioca la carriera contro The Ultimate Warrior. Macho Man è diventato cattivo, malvagio, proprio su tutta la linea. Miss Elizabeth è sparita, i due hanno litigato, lui l'ha accusata di fare gli occhi dolci ad Al Kogan, Miss Elizabeth è lontana, è fuori dalle scene da tanto, e come compagna Macho Man ha Queen Sherry, conosciuta anche come Sensational Sherry. E perde, perde contro The Ultimate Warrior, quindi deve rinunciare alla sua carriera. In un match molto emozionante, tra l'altro, uno degli incontri, credo, migliori di Ultimate Warrior in quel periodo. Ma quello che conta è il finale. Il finale perché Queen Sherry si arrabbia. Randy Savage, Macho Man, è il suo biglietto da visita, è il suo pane in tavola, perché lei è la manager, quindi non potrà più contare su di lui. E come un cavallo zoppo, lei lo scarica e inizia a pestarlo. Macho Man le ha prese, è a terra, e Sherry infierisce. Tra il pubblico, però, la regia da WWE ha sgamato, ovviamente è tutto preparato, ha sgamato Miss Elizabeth, che vede tutto, partecipa al match, è lì con la tensione nel cuore. Quando vede Sherry che pesta a Macho Man, l'amore risboccia nel suo cuore, non si è mai sopito, ma le impone di andare ad aiutarlo. E quindi lei, che non è una lottatrice, si butta nel ring e riesce a soverchiare Queen Sherry e ad allontanarla. Nel frattempo, Macho Man si riprende, prima crede che sia stata Miss Elizabeth a colpirlo, poi si accorge che in realtà è stata Queen Sherry, ormai lui non le serviva più, quindi lei lo ha scaricato, e allora c'è la grande riconciliazione tra Macho Man e la donna che ha sempre avuto nel cuore, ovvero Miss Elizabeth, con il pubblico in lacrime, in lacrime. Se ritrovate le immagini di allora, vedrete uomini, donne e bambini piangere, perché Macho Man ha perso la carriera, ma ha vinto l'amore. E ha capito e ha scoperto che l'amore di Miss Elizabeth, che lui aveva ripudiato e allontanato, in realtà era ed è vero, ed è più importante di una cintura da campione, ed è più importante della propria carriera da wrestler. Storia fantastica. Una storia fantastica raccontata nel ring, da un performer eccezionale, come Macho Man Randy Savage, e anche da un avversario di Ultimate Warrior, sempre molto criticato, un tronco di legno, poche mosse, bla bla bla, eppure grande protagonista delle prime edizioni di Vrestal Mania, magari non delle primissime, sempre o quasi sempre in match, che poi hanno generato questa onda che si sente nei ventricoli. Ecco, questo è il meglio, secondo me, Vrestal Mania Wise, parlando di Vrestal Mania, di Macho Man Randy Savage, e io ritorno in quello di cui ho già discusso in questi ultimi giorni, nelle domande che mi avete fatto, che bei quei momenti, che bei momenti, che bei tempi, e non è una roba da boomer, non è una nostalgia così, tanto per, non siamo alla fine di un film dove il figlio chiede alla madre cosa c'era ai tempi tuoi di quando eri giovane, e lei dice, non lo so, so solo che ci batteva forte il cuore, vediamo se capite la citazione. però il mondo dell'internet ha tolto questa, ed è social chiaramente, il mezzo è fantastico, ci tiene in contatto, ci permette di parlare, sentire, scoprire, valutare, però ha tolto questa immediatezza emozionale, ci ha resi tutti più freddi, più critici, più analisti, invece quella Vrestal Mania lì, con la gente che piangeva sugli spalti, ma tanti, 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 è proprio il wrestling nella sua migliore proposta, quella narrativa con ciò che scrivi su carta che diventa reale per chi guarda, e se diventa reale, se ti ha coinvolto talmente tanto, allora le tue emozioni escono in risposta a quelle che i performer sono riusciti a creare nel quadrato. Quindi sì, me lo ricordo molto bene, Macho Man Randy Savage, purtroppo l'Atleta non è più tra noi, è scomparso, beh credo ormai diversi anni fa, nel 2011, sono andato a vedere, sono andato a vedere nel 2011, però sì, sì sì, è uno dei capisaldi della mia, vorrei dire gioventù in realtà no, perché ero ancora abbastanza bambino, insomma, Vrestal Mania 7, l'hanno fatta nel 91, beh, io avevo 13 anni, quindi sì, dai, dalla mia pre-adolescenza mettiamola così, me lo ricordo bene, e voi che altri ricordi avete, oltre a quelli che già ho toccato io, di Macho Man Randy Savage, oppure non conoscevate questo atleta, vi ho incuriosito, siete andati a vedere qualcosa, o ci andrete, oppure avete un amico che ve ne ha parlato, o avete letto qualcosa su di lui, nei vari forum, beh, fatemelo sapere, qui sotto, nei commenti.